Che fare quando un uomo ti frequenta ma l'aria è svogliata? Allora, può succedere che tu ti frequenti con un uomo ma vedi che questo è svogliato, cioè fa le cose tanto per farle ma senza motivazione, senza enfasi, senza pathos. Allora, intanto perché succede questo? Beh, succede questo perché possiamo dire che emotivamente non è coinvolto, cioè non prova emozioni nello stare con te. Allora, i casi possono essere diversi. O ti frequenta, giusto, ti vede il tempo necessario, cioè si annoia il tempo necessario per poi avere, diciamo, una gratificazione sessuale, ad esempio. Quindi, come dire, il passare un po' di tempo con te è il prezzo che deve pagare affinché tu possa dargliela, diciamo così, tra virgolette. Questo potrebbe essere una soluzione, quindi non ha nessun interesse. Sa che deve darti un contentino e te lo dà in quel modo lì. In altri casi potrebbe essere semplicemente invece che non è neanche interessato per dire alla sfera sessuale, ma passa comunque del tempo con te perché non ha niente di meglio da fare fondamentalmente. Quindi, come dire, piuttosto che niente dice meglio piuttosto. Si passa qualche ora per ammazzare il tempo. E sì, è evidente che in questo caso, in questo secondo caso, si tratta di una persona frustrata dalla vita, che non riesce ad avere soddisfazione nelle cose che fa. Quindi devi tenere presente tutte queste cose. Fondamentalmente, però, non è coinvolto. Non è coinvolto perché a livello emotivo non gli dai emozioni, non sei in grado di dare emozioni. Quindi devi cambiare il comportamento, devi inserire dei nuovi comportamenti. Perlomeno sai una cosa, che quello che stai facendo, i comportamenti che stai mettendo in atto, non vanno bene. Non vanno bene per coinvolgerlo. Quindi devi fare altro. Fare altro si tratterebbe di fare delle cose che possono dare veramente emozioni a questa persona. Devi capire quali sono i suoi turbamenti, quali sono, diciamo, le sue immagini, le sue fantasie, quali sono le cose che lo stimolano. E cercare di mettere in atto questi comportamenti. Potrebbe anche essere di doverlo lasciare, di doverlo rifiutare, di doverlo... Perché se lui anche passa del tempo in qualche modo svogliato, però lo passa, vuol dire che un minimo di, come dire, motivazione, forse solo per ammazzare il tempo c'è, per cui togliendogli quella gli fai venire magari più desiderio di passare del tempo con te. Però poi durante questi incontri devi fare delle cose diverse. Prova a inserire delle varianti perché altrimenti dopo, nel momento in cui troverà un'altra che ti darà un minimo di emozione, ti dirà arrivederci e grazie, andrà da quest'altra. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!